Quasi nessuno fa un caffè perfetto come quello del barista. Ma cos'è un barista? Il barista invece è specializzato nel reparto caffetteria. Non solo i baristi sanno come far funzionare macina caffè e macchine professionali e conoscono i vari metodi di preparazione del caffè, ma padroneggiano anche l'arte della degustazione e hanno una profonda conoscenza del caffè. Per fare un espresso perfetto entrano in gioco molti elementi. La freschezza del caffè, la scelta dei chicchi, il grado di macinatura, la quantità di caffè, la durezza dell'acqua, la temperatura, la pressione e il tempo di erogazione. Offrire ai clienti ogni giorno la stessa alta qualità è l'essenza del mestiere. Il barista ha un ruolo chiave nel bar caffetteria e influenza così l'andamento del fatturato. Nel bar caffetteria vengono utilizzati tutti i tipi di macchine da caffè, dalla macchina automatica a quella con portafiltro fino alla caraffa filtro. Per il barista è importante poter regolare correttamente il macinino e conoscere il dosaggio ottimale della polvere di caffè. Per un espresso ne occorrono circa 8-12 grammi. Il barista è anche un perfetto padrone di casa, consiglia i clienti in modo competente e si assicura che gli ospiti si sentano a proprio agio. I baristi non sono solo cuochi, ma anche artisti. In particolare devono padroneggiare l'arte della schiuma di latte, la Latte Art, che consiste nel realizzare decorazioni a base di latte sulla parte superiore del cappuccino. Per mettere alla prova le loro capacità professionali, i baristi partecipano a campionati nazionali e internazionali di baristi. Chi vuole diventare barista deve seguire una formazione specifica. È solo con molta pratica che si acquisisce l'abilità necessaria. Se volete saperne di più, visitate il sito web di ProCaffè per scoprire l'offerta di corsi. Abbiamo risvegliato il tuo interesse a diventare un vero barista? Grazie a tutti.